Il valore di Giovanni da San Giovanni è di essere un protagonista del suo periodo che aveva effettivamente una presenza non solo a Firenze, non solo nella Toscana ma anche a Roma, nell'Urbe. Giovanni da San Giovanni torna a casa nel Valdarno, un viaggio nell'arte del pittore attraverso dieci tondi dipinti su Stuoia e altre opere provenienti dalle gallerie degli Uffizi ed altre collezioni. Portiamo a San Giovanni delle opere che non erano mai qui ma che testimoniano dell'importanza di Giovanni e di San Giovanni anche nella realizzazione di temi che vanno oltre i temi standard e quindi anche l'inventività di questo pittore straordinario. Bizzarro e capriccioso umore, Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla Corte Medicea è la nuova mostra di Terre degli Uffizi, ospitata fino al prossimo 31 marzo nel Museo delle Terre Nuove e nel Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Noi ne facciamo parte da due anni, lo scorso anno con una mostra importante dedicata a Masace e Beato Angelico che ha riscosso un significativo successo di visitatori e quest'anno diamo spazio ad un altro San Giovanni Sedoc, Giovanni Mannozzi, detto Giovanni da San Giovanni. Nato nel 1592 e morto nel 1636, è emerso nel panorama del primo seicento per il suo originale gusto neomanieristico, per le sue pennellate sintetiche, per la freschezza dei suoi colori e per il suo particolare estro, tanto da portare a parlare di pittura proto-impressionistica. Grazie ai curatori è diventato un percorso eccentrico, fuori diciamo misura formale perché Giovanni da San Giovanni consente quasi con un ritmo di sensibilità contemporanea di parlare di eccentricità e di fuori regola.